E poi voi flippate, chiami e no, volevo flippare, potete ripartare un torno un po' Adesso l'orto è danno con un flippo il volante. Guardate che ще sono un velo più vicino, la scapole lo usiamo. Ancora, la scapole, ancora, più scapole, ancora. non passare i greci alto alto vai prendere, vai cercare l'oro manco, non arrivo a 90 gradi forza, vai a 90 gradi ma qui non scorra, no scapole, ma non tricipite verso le orecchie a 45 gradi limitate a parallelo al gusto 1, 2 meglio verso di te ancora ponete più indietro eccolo manca scapola per andare no, testa no direttamente incollare i gommiti al retto addombo direttamente incollare i gommiti al retto addombo incolla incolla trapezze verso il vento non riuscire regolatore delle scatole eccolo ma comunque devono essere un po' consigli basta che prendere qui 1 ricordate di riuscire e ottimare i greci 2 via su 2 grazie 1 1 2 3 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 8 7 8 10 11 12 12 12 12 14 15 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 16 16 16 16 17 19 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 21 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.